Ehi la ciurma, io sono mazzatessa e ben ritrovati qui in questo Nuovo episodio di Imperator Rome, c'è nato un bambino nel mente C'è morto l'epistratego Mercenary Maintenance, ma chi se ne frega il Mercenary Maintenance Sinceramente, potremmo mettere anche uno più scarso Allora, più che altro il Trofeus, tu puoi farmi da tutore per il mio erede? Sì, per lui Vai Allora, lui ha delle cose, dei tratti negativi Lui ha Kindly, Wake, Killed e Devote No, allora direi, che cosa gli facciamo fare? Allora, gli facciamo fare una roba... Di cosa è che abbiamo bisogno di tanti punti? Religioso Per convertire gente a manetta Ho finezza per le invenzioni Ma hai già tanta finezza Direi... sì Quella degli dei, degli dei, degli dei, degli dei Siamo pronti? Ce la fate a camminare un po' più in fretta, dai Quanto perdiamo? Solo 832, cioè solo tre virgolette Ci muove... C'è comunque gente che ci muore di fame 832 persone al mese ci muovono di fame Allora, andiamo a 3 Pronti Arriva anche Takif dentro Però Takif è giusto questo ragazzino qua Quindi non dovrebbero impensirci troppo Allora, abbiamo detto Takif cos'ha? 17 Loro ne hanno 21 Quindi non dovremmo avere grossi problemi Dichiera guerra Pronti Vada Se mi guarda con entrambi Nespa Diplomacy Sì Qua Vada Abbiamo anche un discreto generale là Ci sono dei forti? Secondo me non solo la capitale, infatti Non solo la capitale che non è forte Più che altro temo che Ah 68 Vediamo cosa succede Uh, no Ha perso un tratto negativo Sì Molto bene No, quasi 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 rimuovo di sotto Perché se gli altri fanno il giro Siamo fregati Perché potrebbero effettivamente dire Ehi, andiamo tutti i 21.000 in sotto Cosa che infatti stanno facendo? Aia Ci schiantiamo? Eh, rischiamo Però ormai il movimento è andato Eh no, niente Abbiamo perso fortissimo Ci ho pensato dopo stupidamente Dove... Aspettate Dove vi ritirate? Ah, ok Là Ci sta Allora andiamo Là sotto Con questi Oh, questo è già vinto Allora aspetta No, no Venite in qua Venite in qua Sei pronti là Voi Eh, anche con quelli che dobbiamo Rinforzare Prendiamo ancora Gente È molto buono Ce la fate? Ok Siamo in guerra Ok Abbiamo sempre quei tre Personaggi sleali Aia Aia Fermati Fermati Ho deciso di cambiare idea Vada No Mi abbiamo interrotti Vediamo se riusciamo a prendere questi 9000 da soli Potrebbe essere perché non hanno tempo di salvarli Aspettate Quanto... No Quanto manpower hanno loro? 10.000 Potrebbero reggere ancora per un po' Si stanno muovendo? Si schiantano contro? Mi sa di sì Mannaggia Quanti cavolo di morti Vabbè Voi fermatevi anche qua Non è un problema Allora Questi 20.000 Andate là E va bene Così dovrebbero Farli sparire per sempre Perché non hanno più Provincia in cui andare Via 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 Dai Ok Fine Allora Con questi 20.000 Torniamo qua su Questi rimandiamo qua Questi sono 20 Ok Quelli sono anche 20 Gli altri li sposteremo di nuovo in giro Cioè in realtà anche quei 20 La li spostiamo poi Tanto cosa ce ne facciamo qua Questi 20.000 qua Possono anche Ehm Tornare su Mi sa che sono una di quelle truppe nuove Che abbiamo fatto Vada Sì hanno fatte le olimpiadi Anche quest'anno Mannpower si è messi bene Ottimo Cosa potrebbe andare Potrebbe andare meglio di così Non credo Allora per ora Quelli li lasciamo là Tranquilli Qua è il massimo 1335 Ok Dovremmo riprenderci Ah ok Ci sono 12.000 persone che sono morte Quindi ma sono mancanti Sono vacanti Ci sono dei posti vacanti Nell'esercito Arruolate anche tu Qui direi che La pace Possiamo benissimo dire Sure for peace Questa roba War gold Ce l'abbiamo Raghib è a posto Quindi Vada Vada Prendiamo solo 3 di aggressive expansion Ehm Ehm Vada Molto bene Qua tra l'altro possiamo colonizzare con le altre Arbia No dobbiamo convertirle un po' Allora Converti Converti Simila Simila Converti Simila Ok ci sono bastati arpele I punti Colonizza Muove Ottimo 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 Allora Questi qua Li muoverei Su in cima Tipo qua Tanto averne 40.000 qua sotto Già Bastano E avanzano Non è così importante Com'è che è così tanta gente Dai Fa qua 39.000 truppe No V come 23 Il segno è 39 Ah no Ce ne sono 16 Di mercenari In mezzo Sono legati con la Tamu di Revolt Buono Finite le Olimpiadi Sono tutti contenti Ci sta Non mi muoio Non è quelli di Israel Charters No Poi potremmo prendere Anche questi due Questi due pezzetti Da Blemia Tanto abbiamo una tregua Ancora fino al 67 Buono Ha un caso Sbelli Su di noi Quasi per il fatto Che abbiamo fatto Il Threaten War Diamo un caso Sbelli Ogni volta che No Non credo Ah si Con il Threaten War Diamo un caso Sbelli Buono Spersi Ma non credo Che ci diverrà Nessun incontro In questo momento Oh la tregua più Finisce prima Dovrebbe essere Questa del 61 Perché questa È Del 27 E qua non avevamo Chiesto nulla Vero no No Cappadocia No Non abbiamo chiesto nulla Cappadocia È comodo per gli stati piccoli Non devi andare a far guerra Gli dice Voi dammi tutto quello che hai E gli altri dicono Ok Molto bene Qua Oh si Riusciamo a colonizzare questo Ottimo Ok Abbiamo finito le zone Da colonizzare Finalmente ci espandiamo Fino a cartagine In Con soluzioni di continuità Insomma Allora io Qua Non sono messo Cioè vorrei collegarmi Un primo po' Chios Chi è questo chios? No È un vassero della frigia Ma se io dichiarassi guerra Entrebbe la frigia per forza Perché è un suo tributario La frigia come messa 71 No più che altro dovrei dichiarare La traccia Se volessi proprio Ma Chi se ne frega Per ora Per ora lo lasciamo là Tranquillo Tranquillo Ah C'è un tizio straniero Che è arrivato Da noi È finita Guarda il civile Dei selei Uccidi tanto per cambiare Ma non mi interessa Una fortezza Vai Sei un cittadino adesso Che bello che sono anche gli applausi Sono tutti felici Vale vale Quanto ci mettiamo ancora Per assimilare Tra l'altro Dove casco In nostra 681 Non ci credo Mancano solo 20 anni Tremendo Dislawyer Characters Eh sì Ma tanto non posso farci nulla In questo momento Sui Dislawyer Characters Ma perché c'è la Tamudi Revolta Qua a casa mia? Boh Ma Statevene da voi No? Ma da Tamudi Revolta E Tamudi Dove sono i Tamudi? Non esistono più Baggone questo Sono in guerra Contro No No niente Per la Rivolta Hanno distrutto gli altri Propriamente Nel mente Quindi sono rimasti Solo i rivoltosi Ehm Sì qua Queste truppe qua Che servivano a difendermi Ma non so neanche Che fine hanno fatto Gli eserciti dei miei Come dice Qua sono tutti là Stanno facendo comune Il lavato Tra un attimo morite Cari miei Quanti anni ha? Ha 70 anni Ma cosa vuoi fare? Tra un attimo Ciao 91% E sale E sale Sta salendo Ti rendi conce Questo Non possiamo mettere Tra l'altro Un tutore Per la nostra figlia Mi sa di no Perché il nostro trofeo Se già Ma no Possiamo farlo Perché Scusami Ah costa 100 Ogni volta Scusami Possiamo potenziarlo E scusami Mi è salito No Non è successo niente Scusami Ah no Ok È un'ambizione Che gli mette Ok Mentre invece Mia figlia Come messa Vuole diventare Un grande guerriero Anche lei Va bene Ma Un po' di finezza No Scusami Prendiamo Un attimo Vai Dammi I soldi Dico Trofeus Mia figlia Finezza Adesso vuole diventare Un politico Ok Ah ok Quando diventa adulto Prende poi Un tratto Di quelli Di questo ramo Insomma Questo Questo L'abbiamo messo Militare Al fine Vabbè Ci sta Ogni mese O guadagna 1 O guadagna 2 Oppure guadagna 1 A caso Tipo adesso vediamo Vediamo un attimo Finisce Quando finisce novembre Che cosa succede E' una meccanica Che non avevo mai Studiato bene Nel dettaglio Credo fosse Un po' diverso Da quello che è Effettivamente 26 27 28 Cosa ha preso Ha preso Uno di finezza Mi sa Uno di carisma Non ha preso Di militare Di sicuro 2954 Vediamo adesso La fine di dicembre Ma non per forza Ne prende uno Suppongo Ha la possibilità Di prenderlo 2954 Sempre Sì Non è in comando Di nulla Ovviamente Vediamo A fine gennaio Se succede qualcosa Oh il governatore Dell'Alto Egitto E' morto Dovremmo mettere Uno nuovo Anche il governatore Della Grecia Niente Niente Qua sarà un bel problema Quando saranno tutti Forti Hold Games No Ma il Triumph Non posso già più farlo Sono passati più di 720 giorni Vabbè Dovrei farlo magari Proprio spessi I Triumph Anche cosa che fa Andiamo in 20 di realtà E 25 di popolarità Ma adesso C'abbiamo già Tutto Alto Oddio ma siamo pieni di pirati Qua Sì Scusa Vai qua a menare Sta gente Signora Il barcaiolo Qua Ma direi che posso farlo Anche off camera Sì 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 Lo farò off camera Io vi ringrazio Per la visione E vi auguro Una buona giornata Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti